Il maestro Mauro Pagliossate! E anche di quei nuovi uomini! Bravo! Quindi adesso... Cristina Tonini in... Sharding Doll! Sharding Doll! Ora Manelli, facci un... Non so se non da, ma non è Non lo so se non da... Non lo so se non vedevi... No! Non lo so se non vedevi... Sei in Do? L'itore originale? Sì, Mio! Non lo so se non vedevi... andiamo no ora ora la pronuncia eh? se vuoi la pronuncia però è la pronuncia la minore no no si si scusa si si lei sempre va la mia luce non fa guardare subito a ora vediamo a luce e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.